Il treno ha la velocità a breccia rossa, 97.07, il treno Italia, anche le ore 10, provvedente da Milano Centrale e diretto a Pesce Centrale, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gianta. Il treno di Sme 6 è in testa al treno. Avvisiamo che l'ascensore binario 6 e 7 è fuori servizio. Informiamo ai viaggiatori che l'ascensore è in binario 10 e 11 è fuori servizio. Annuncio cancellazione treno. Il treno Eurocity 44, di Trenitalia, previsto in arrivo da Venezia a Santa Lucia, è diretto a Geneve Aeroport, delle ore 16.30, oggi non è stato effettuato. Annuncio cancellazione treno. Il treno Eurocity 44, di Trenitalia, previsto in arrivo da Venezia a Santa Lucia, è diretto a Geneve Aeroport. Delle ore 16.30, oggi non è stato effettuato. I viaggiatori diretti a Geneve Aeroport possono utilizzare il treno alta, velocità frecciarossa 97.48, di Trenitalia, delle ore 17, per Milano Centrale. Dovranno scendere. Dovranno scendere a Milano Centrale. Il proseguimento per Geneve Aeroport verrà annunciato, nella stazione di Milano Centrale. I viaggiatori diretti a Milano Centrale possono utilizzare il treno alta, velocità frecciarossa 97.50, di Trenitalia, delle ore 17.30, per Torino Porta Nuova. Dovranno scendere a Milano Centrale. Il proseguimento per Geneve Aeroport verrà annunciato, nella stazione di Milano Centrale. Il treno alta, velocità frecciarossa 94.16, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 14.25, in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedi. I livelli SCT Business sono in questa a treno. Il treno alta, velocità frecciarossa 97.00, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Milano Centrale, delle ore 5.52, in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno alta, velocità frecciarossa, del Gata, del Trenitalia, del Gata, del Gata, del Gata, di Trenitalia, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 14.44, in arrivo al binario 5.00, di Trenitalia, invece al binario 7. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. La linea gialla. Non sono ristrata in pieno di Trenitalia, delle ore 5.3, in arrivo al binario 7.00, di Trenitalia, del Gata, 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 del Gata. Attenzione, allontanarsi dalla linea alta. Non sono previste fermate e fermate. L'ambiente sta in testa al treno. Attenzione, informiamo che dal 7 al 18 agosto per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea alta, velocità Milano-Salerno e sulla linea convenzionale Firenze-Roma, i tre di alta velocità e intersidi subiscono modifiche l'orario, variazioni o cancellazioni. Maggiori informazioni sui canali web o presso le assistenze clienti e i migliori termini. Attenzione, informiamo che dal 26 luglio al 22 dicembre i tre di della linea Venezia-Destra e Adria subiscono modifiche e cancellazioni per l'esecuzione di interventi manifestativi programmati sulla linea. Maggiori informazioni sui canali digitali di sistemi territoriali e al numero 2800-366-766. Il treno alta velocità Frecciarossa, 97.07, di Trenitalia, delle ore 10 e 11, per Trieste Centrale, è in partenza dal binario 5. Ferma a Sant'Anna di Piavi di Esolo, Porto Cluaro-Caorle, Latisana-Lignano-Biglione, Cervignano-Aquileglia-Grado, Trieste Aeroporto, Monfalcone. Il livello business è in testa al treno. Il treno intersini di notte, 7-7-4, di Premi d'Avia, delle ore 5-7, proveniente da Roma Termini e di Rai Corresti Centrale, ha liberato un ritardo previsto di 40 minuti, per un quattro, al treno. Il treno Railjet, 1-3-2, di OBB, proveniente da Venezia-Santa Lucia, è diretto a Vienna, delle ore 10.08, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Treviso Centrale, Portenone, Udine, Tarvisio Bosco Verde, Villa KBF, Belbendoerder, Plattenport, ST-Veitglan, Friesanck, Unzmarkt, Juttenburg, Niddaefet, Leoben BF, Bruca di Muro, Piener Neostadit, Pienmeidling. Attenzione! Informiamo che dalle ore 3 di giovedì 13 luglio alle ore 2 di venerdì 14 luglio, i treni potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero del personale di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia di Ferma. Maggiori informazioni sui canali web o presso assistenze clienti e biglietterie. Maggiori informazioni sui canali web o presso assistenze clienti e biglietterie. Maggiori informazioni sui canali web o presso assistenze clienti e biglietterie. Maggiori informazioni sui canali web e uterrini. Maggiori informazioni sui canali web di töb Grazie a tutti.